Mancini entra nell'area dell'Atalanta nel primo tempo, Soldalo ferma in qualche modo, per Leni si tratta di calcio di rigore che lo stesso Mancini trasforma. Al 38esimo della ripresa è il pareggio, anche qui su calcio di rigore, avanzano Cantarutti e Piovanelli e poi Piovanelli viene atterrato, l'arbitro concede il rigore che Magrini, specialista, trasforma malgrado il tuffo di Bordone. Bordone che poi verrà tradito dalla successiva punizione di Magrini, eccolo al 46esimo, in pieno recupero, vittoria.